buongiorno a tutti e per prima cosa ringrazio tutti per questa esperienza è stata importante anche perché portiamo tutti noi dei problemi importanti alla luce poi no del ancora di più col focus su quello che dobbiamo sviluppare e vorrei mandare un paio di messaggi il primo alla comunità e le cose adesso avvengono in maniera molto 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 più veloce rispetto a prima e magari tra meno di cinque anni succedono degli scenari che potremmo immaginarci tra 20 anni lo abbiamo già visto la pandemia l'acqua se qualcuno mi dice che dieci anni fa l'acqua un problema io rimango davvero essere fatto quindi quello che dobbiamo fare come comunicata accelerare non pensare che succede poi alla prossima generazione che abbiamo tempo abbiamo tempo no tempo non ce n'è tra due tre anni succede qualcos'altro e poi all'imprenditore mi rispecchio o in questo mantra che ha detto anche il dottor burro prima essere migliori del giorno precedente questa è la cosa più importante se si lavora su questo alla fine il progetto in qualche modo esce secondo me si siamo molto felici di aver partecipato a questo evento fantastico qui a bari che racchiude un po' tutte le realtà dell'ecosistema favorevole alle start up come la nostra all'innovazione tecnologica che è un po la nostra missione quella di portare il deep tech a bari grazie anche al supporto dell'università di bari con cui siamo spin off accademica accreditata salve a tutti sono chiara mongiovidi del progetto bimì oggi abbiamo partecipato alla start up puglia siamo arrivati terzi risultato per il quale vogliamo ringraziare la giuria il nostro progetto prevede la volontà di rivoluzionare dispositivi di accumulo energetico come batterie o supercondensatori rendendole dal non sostenibile al naturale utilizzando dei materiali di nostra formulazione a base di bioponimeri quindi di bioplastica speriamo che il nostro progetto possa andare in porto e speriamo di rivoluzionare il mondo dell'energy storage anche col supporto di tutti voi grazie salve a tutti sono onorato di aver ricevuto il quarto premio in questa competizione stack up è una menzione speciale inoltre il premio speciale silver economy è stata un'esperienza davvero formativa e la partecipazione mente è stata emozionante in più ci entusiasmano le nuove strade nuovi obiettivi che che con l'evento di oggi si prospettano speriamo di partecipare al meglio al premio di innovazione internazionale e comunque siamo in ogni caso entusiasti di tutto il nuovo networking e delle conoscenze e esperienze che mi ha avuto grazie a questa manifestazione sensazione